Adorati, come state? Eccomi qua, la Marchese di Mondragone, vi racconto come è andato con una ammurata mia. Stamattina è arrivato il barista con una colazione a letto, mi ha portato pure una rosa e le scuse per fare pace. E' bello! Ma non se ne parlo trovi per fare pace, perché a fine settimana non ci sto, sto con il fotografo a fare un weekend. E lui prima si è nervosito un po' e dice, vabbè io accetto, è importante che tu sei il mio amore e facciamo pace. Bello, ma non si fa pace ancora, ma vengo a fare il primo weekend con il fotografo. Quando do, si deve piacere, facciamo pace. Se no, rimaniamo così, tu hai sbagliato e sei sempre un po' a fondo per me. Quindi io, per me, sto con bufato. Ma si vedrà. Eh, adorati? Fate anche voi così con gli uomini, perché gli uomini sono cattivi. Allora, noi dobbiamo essere forti. Ciao!